Buonasera a tutti, ci troviamo all'atelier Gluck di Milano e qui con noi è Enrico Ercole. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo qua all'atelier perché sta per essere inaugurata il 17 febbraio una mossa dedicata al gatto. Sì, non solo dedicata al gatto ma dedicata per la precisione al gatto nell'arte, questa particolare branca dell'arte che in pochi conoscono, però i gatti in maniera molto discreta come è il loro uso, compaiono e scompaiono all'interno di tele molto importanti e la mostra è dedicata proprio a questo percorso. C'è una parte dedicata diciamo ai grandi maestri della pittura che è rappresentata dall'esposizione di tele riprodotte ad altissima risoluzione, quindi fedelissime agli originali della collezione a gema che appunto riproducono queste opere d'arte. Quindi si va dalla famosa Olimpia di Manet dove compare un micino nero nell'angolo della tela che sta a significare un po' il peccato, questo micino che guarda questa bellissima prostituta distesa sul letto, al micione diciamo così proprio barocco di Bachelier che potete vedere qua alle mie spalle, poi c'è il gatto invece ferino un po' crudele di Picasso che rappresenta la guerra che branca un uccellino inerme che in questo caso è la Spagna, il paese di Picasso vessato dalla guerra, poi c'è il ritratto di Don Manuel di Goya dove ci sono tre micioni nell'ombra inquietanti come è nello stile di Goya, poi c'è bellissimi disegni di Leonardo da Vinci che considerava il gatto l'essere più prezioso in natura, una bellissima incisione di Durer che rappresenta il peccato originale dove il gatto se ne sta bello bello tranquillo con un topolino dormendo tranquillo perché è il momento prima che si consumi il peccato originale quindi l'armonia regna ancora sovrana e questo sta a significare la presenza del gatto. C'è il gatto di Lorenzo Lotto che scappa, rappresenta un po' il male che scappa di fronte all'angelo che è venuto ad annunciare la maternità alla Vergine e poi il percorso continua, si passa un po' allo scherzoso con i quadri della Cat Gallery di John che è un artista di Milano, al secolo Gian Antonio Muratori in arte John, che si è divertito a dipingere i gatti come li avrebbero dipinti grandi artisti come De Chirico, Fontana, Braque, Magritte, se avessero dipinto dei gatti li avrebbero dipinti così e lui si è divertito a fare questi falsi da autore. Ci sono poi tante altre sorprese, ci sono i lavori dei ragazzi della scuola di scenografia dell'Accademia di Brera che ognuno ha inventato il suo gatto, è ancora tutta una sorpresa perché li dobbiamo ancora vedere. Poi ci sono le fotografie di Antonella Parolo che si è divertita a fotografare da vicinissimo il muso dei gatti con delle sorprese visive e ottiche davvero notevoli. Ci sono i lavori di Monique che si è divertita a giocare con i colori dei gatti stesi su dei tappeti coloratissimi ottenendo dei contrasti davvero interessantissimi. Ci sono i microcosmi di Ettore Sobrero che è un'artista milanese che si diverte a fare delle piccole librerie in miniatura con dei gattini in ceramica minuscoli un po' da scovare che si divertono ad arrampicarsi sui libri e poi ci saranno tante altre sorprese soprattutto la sera dell'inaugurazione che è il 17 febbraio, giornata nazionale del gatto, la mostra inaugura. Ci sarà il body painter Guido Daniele che dipingerà sul viso di una modella un vero e proprio viso da gatto, precisamente un siamese perché la modella in questione ha gli occhi azzurri e quindi il gatto non poteva che essere un siamese. Ci sarà Stefano Zuffi autore del libro Il gatto nell'arte, storico dell'arte che ci farà un po' da guida in questo mondo tra il serio e il faceto. Ci sarà un gatto che si chiama Picasso tra l'altro bianco e nero che è il gatto qua di Atelier e che sarà ovviamente l'ospite d'onore della serata e ci saranno poi gli esperti dell'Anfi Lombardia, l'associazione nazionale felina italiana che verranno a parlarci delle razze dei gatti. E poi tante piccole sorprese che non è il caso di svelare completamente. La mostra allora dal 17 febbraio al 27 febbraio qui all'Atelier Gluck e abbiamo appena accennato appunto che c'è la giornata internazionale del gatto, una fortunata coincidenza proprio anche per il mese di febbraio. Sì, no, in realtà non è una coincidenza. L'Atelier Gluck ormai da anni, il 17 febbraio proprio per questa giornata, dedica degli eventi ai gatti. L'anno scorso abbiamo fatto un evento che si chiamava Gatti di carta, dedicato ai gatti nei fumetti e nei cartoni animati, infatti qui vedete il manifesto degli aristogatti, che merita un posto d'onore nella produzione dei gatti di carta. L'anno prima abbiamo fatto un concerto dedicato ai gatti nella musica classica perché sono numerosi i brani di musica dedicati ai gatti e quindi dove infatti è stato per l'occasione composto l'inno ufficiale della giornata nazionale del gatto, il mio gatto, che verrà cantato anche in occasione di questa inaugurazione da Laura Susan con il suo coro, che aprirà proprio la serata. E poi, come dicevo, abbiamo fatto questo concerto che si intitolava Magnifi Cut. Ma in retroscena di questa mostra, il lavoro che c'è dietro, quanto tempo richiede poi selezionare tutte le opere e chi si impegna a fare ciò? Il lavoro è stato notevole, nel senso che le opere che rappresentano i gatti sono davvero tantissime. Abbiamo voluto intanto selezionare le opere di artisti che dicevano qualcosa al grande pubblico, perché comunque è una mostra dedicata non solo a chi è appassionato d'arte, ma a tutto il pubblico. Quindi abbiamo scelto nomi un po' altisonanti come Leonardo, Picasso, Goya, Bachelier forse meno conosciuto, ma il suo gatto è talmente bello che non poteva rientrare nella scelta. E quindi abbiamo fatto tutta una scelta anche di simpatia di questi gatti, facendoli vedere a tutti gli amici, dicendo tu quale metteresti, quale non metteresti, è venuta fuori una top ten, anzi una top nine, perché la nostra mostra ha tutti i moduli di nove come le vite dei gatti, quindi ogni artista espone nove opere. Ci saranno anche appunto, adesso che mi viene in mente, i quadri di Daniela Ria che rappresenta i gatti, rappresentati vestiti come uomini storici e ha fatto proprio delle opere apposta per la mostra. Poi c'è tutta la serie di contatti con gli artisti che poi pian pianino, man mano che si spande la voce, chiamano, chiedono di poter esporre, si scelgono le opere, alcuni sono vecchi amici, vecchi collaboratori con cui magari avevamo già fatto degli eventi che hanno fatto dei mici apposta come i ragazzi di Brera e quindi si mette in moto tutta una macchina, ognuno propone il suo gatto, si scelgono e poi la mostra pian pianino prende vita. Perfetto, quindi sta prendendo vita perché qua c'è ancora l'allestimento in corso, ma l'inaugurazione appunto abbiamo detto il 17 febbraio fino al 27 febbraio qui all'Atelier Gluck di Milano. Grazie Enrico Ercole. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Miau scusa sai so dire solo questo sto qui in silenzio ti osservo ti aspetto Grazie a voi. Grazie a tutti.